Non riesco a capirla, lei vuole veramente questa gente? Questa gente, si la mia gente, voglio la mia gente Ma chi crede di essere, Mosè? Forza, di che si tratta? Quanto ci guadagna? Dov'è l'imbroglio? Parli? E' un ottimo affare Si, è un ottimo affare secondo il suo parere Senta, deve trasferire l'oro, le attrezzature e tutto il resto in ciecoslovacchia Sobbarcarsi la spesa e costruire un altro campo Alla cosa non ha senso Ascolti, Anna, è conveniente per me Li conosco, ho familiarità con loro, non devo addestrarli E' conveniente per lei, la ricompenserò E' conveniente per l'esercito Sa cosa fabbricherò? Cosa? Granate per l'artiglieria Tutti fanno granate per l'artiglieria Granate anticarro, ne hanno bisogno, così tutti sono felici Tutti sono felici tranne me Insomma, probabilmente mi sta imbrogliando Se io ne guadagno cento, lei ne guadagnerà tre volte tanto E se mette tre volte tanto, saranno quattro in realtà Ma come? Gliel'ho appena detto In effetti non ha detto niente D'accordo, non me lo dica Starò al suo gioco E' solo che mi irrita Non vederci chiaro Ascolti Deve solamente dirmi quanto vale per lei Quanto vale una persona per lei? No, 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 no Quanto vale una persona per lei?